Tommando la funzione del Presidente di una situazione di maniera FTA nel momento in cui c'è un reto grande. La situazione laborale non è abbastanza tenso, specialmente dalla attitudine di una donna di lavoro di oggi. In una situazione economica in cui c'è un reto, in cui la FTA è più forte, in cui c'è un lavoro con il ministro Cunbligone, con la diretiva e il sindicato, per ottenere una relazione forte e un balance della comunità. Presidente, il nuovo pensamento, e cosa cambia il nuovo? Il pensamento non è diverso, ma il principio non è che la mia cosa. La FTA non c'è il principio, non c'è sempre il nostro lavoro, per il trattatore, per il diritto umano, e per trattare di cambiare e mantenere la democrazia turcamina. Il nostro FTA è una zona più hobby, non ci si tratta di un altro lavoro, e non ci si tratta di una forma più organizzata, forte, e così, il nostro obiettivo è che il FTA e il sindicato, si tratta di qualità di vita e di lavoro di ogni cittadino. Anche il sindicato è rispettabile, ma non c'è tanta rete, il sindicato è costa di avere difficili, è il momento per il sindicato, una unione e una legge nel Parlamento per il sostegno? C'è una legge, ma non ci si tratta di un sindicato, ma non ci si tratta di un sindicato, che ci tratta di avere più sostegno e più libertà per il tragi, e di avere un valore nella regione sindicale. Ora, immaginiamo che senza un balance, senza una protezione di il tragi, ma non ci si tratta di un sindicato. In questo è anche il sindicato con una divisa. Grazie a tutti.